Una banca in linea con le aspettative della comunità e del territorio è quanto scaturito lo scorso 23 aprile dall'Assemblea Generale Ordinare dei Socii della Banca di Credito Cooperativo di Fano, che si è riunita al Teatro della Fortuna, un momento centrale per la vita di una banca così radicata in un territorio che si estende da Fano a Senigallia, osservato il presidente BCC Fano Romualdo Rondina aprendo l'appuntamento. L'incontro e il confronto con i soci, unitamente alla loro partecipazione attiva alla vita della banca, ci consentono di mantenere un rapporto concreto con la realtà quotidiana, il che è fondamentale per rispondere alle necessità economiche e sociali. Superato il difficile periodo della pandemia, infatti, ci si è ritrovati nuovamente nell'incertezza conseguente alla crisi bellica in Ucraina, anni difficilissimi che BCC Fano affrontato e continua ad affrontare con scelte oculate e lungimiranti. Il bilancio chiuso al 31-12-2022 e approvato dall'Assemblea dei Soci conferma che la banca è solida, ha detto Rondina, capace di sostenere il credito per famiglie e imprese e preparata a creare valore ciò di cui abbiamo più bisogno. Nel corso dell'Assemblea, così come da ordine del giorno, è stato nominato un nuovo componente del CDA, individuato nella figura della dottoressa Simona Romagnoli, giovane imprenditrice alberghiera di Senigallia subentrata al posto di un amministratore uscente. Sono seguiti gli interventi istituzionali come quello del sindaco di Fano Massimo Seri, che ha portato il saluto e ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione comunale. Anche i numeri possono avere un'anima, detto, e dare le indicazioni per capire un territorio. La BCC Fano è un osservatorio privilegiato della comunità del suo andamento economico e sociale e voglio rimarcare l'importante ruolo che questa banca ricopre nell'ambito locale, grazie a una presenza costante e appassionata a eventi culturali, sociali, sportivi e solidali. Nel corso dell'assemblea è intervenuto anche Giovanni Bonprezzi, direttore della Caritas di Senigallia, ricordando il sostegno che BCC Fano, presente da oltre 20 anni anche nel senigallese, ha messo in campo in occasione della drammatica alluvione del settembre scorso. Nel corso dell'emergenza la Caritas ha erogato 2,3 milioni di euro in offerte, aiutando 120 sfollati, ha consegnato un migliaio di elettrodomestici alle famiglie bisognose e operato nel minor tempo possibile per rispondere alle esigenze della popolazione colpita dal dramma. L'assemblea generale ordinaria è stata poi l'occasione per premiare i soci entrati nel 1979. In particolare sono stati consegnati riconoscimenti ai soci presenti in teatro, Giovanni Fucili e Paolo Bufano. Tra i premiati anche il presidente BCC Fano, Romualdo Rondina, che è stato premiato dal vicepresidente, Luciano Radici, insieme al direttore generale della banca Giacomo Falcioni. Rondina è alla presidenza dal 1993 e nell'arco di 30 anni ha contribuito a far diventare la banca l'istituto di riferimento del territorio.